Proporre una sintesi delle misure della legge di bilancio relative alla scuola non è molto difficile, dal momento che si tratta di poche disposizioni che non rivestono neppure una particolare complessità. Parliamo di quelle che riguardano gli organici. Il comma 266 dell'articolo 1 stanzia circa 120 milioni nel triennio per consolidare in organico di diritto un migliaio di posti di organico di fatto di sostegno. Il comma 279 prevede un modesto stanziamento per creare un contingente di 390 posti di organico di potenziamento per la scuola dell'infanzia. I posti andranno così ad aggiungersi a quelli creati lo scorso anno 800 che però erano stati sottratti al contingente della scuola secondaria. La misura più importante è contenuta nel comma 280 e riguarda la stabilizzazione di circa 11 mila lavoratori LSU della provincia di Palermo che svolgevano la funzione di collaboratori scolastici. Per quanto riguarda invece il personale docente la disposizione più rilevante è certamente quella contenuta nel comma 249 sul bonus docenti. In pratica le risorse del cosiddetto bonus per il merito vengono definitivamente destinate ad incrementare il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa in modo da poter essere utilizzate mediante contrattazione integrativa d'istituto in favore del personale scolastico sia docente sia ata. Qualcosa ma si tratta davvero di briciole la legge assegna anche alle attività di formazione per il personale. Al comma 256 c'è un fondo di 11 milioni di euro per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica mentre per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è previsto un milione di euro per attività di formazione in materia di bullismo e cyberbullismo. Per la didattica ci sono un incremento di 2 milioni di euro del fondo destinato ad attività per l'innovazione digitale e uno stanziamento di 20 milioni di euro da destinare alle scuole che acquisteranno abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale. Le scuole che aderiranno al programma potranno insomma usufruire di un bonus del 90 per cento delle spese sostenute. I commi 346 e 347 non riguardano direttamente la scuola ma rappresentano però una misura diretta a sostenere la diffusione dell'educazione musicale dei più giovani. Le famiglie potranno infatti ottenere una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per la frequenza dei corsi a carattere musicale fino ad un massimo di 1000 euro di spesa. Un po' di risorse vengono messe in campo anche per l'edilizia scolastica ma si tratta per lo più di fondi non spesi negli anni precedenti. 70 milioni di euro per esempio risalgono addirittura al piano della ministra Carrozza del 2013. Come abbiamo già ampiamente scritto nella nostra testata online i fondi per il rinnovo contrattuale non rispondono alla promessa fatta di garantire un aumento a tre cifre. D'altronde proprio questo è stato uno dei motivi per cui il ministro Fioramonti ha deciso di dimettersi dall'incarico. Ma per capire meglio il problema bisognerà vedere come verranno applicate alcune misure che prevedono per tutti i lavoratori e dunque anche per i dipendenti della scuola la riduzione del carico fiscale. Ne riparleremo più avanti. Quindi continuate a seguirci sia su questo canale sia nel nostro portale www.tecnica della scuola. Continuate a leggerci e soprattutto continuate a scriverci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.